Roadboy Bears, Mashup Repairs Facilissimo, basta mettere così e così e così e vi uscirà fuori il pistone mentre per il pistone a bicicluso bisogna avere un pistone e una palla di slime ecco qua Quali sono le loro funzionalità? Questo è il pistone normale, come vedete sopra non c'è niente, la sua funzione è solo quella di spostare i blocchi Ecco, mentre il pistone appiccicoso è così, con dello slime sopra, se mettete un blocco, quando lo tirate su e lo rimettete giù rimarrà appiccicato sopra Bene, da questo tutorial brevissimo è tutto e noi ci vediamo in un prossimo tutorial Ciao a tutti ragazzi e spero che vi sia stato utile Ciao